grande successo per i campionati italiani di fondo sprint trofeo beppe barzasi città di clusone che hanno visto protagonista cancro primo aiuto l'associazione col suo braccio operativo nello sport oltre cpa ha collaborato alla buona riuscita della manifestazione con gli uomini dello sciclub 13 clusone tra i tanti atleti partecipanti anche il testimonial di cancro primo aiuto federico pellegrino che in coppia con diet marni e claire ha prevalso nella team sprint anche il primo aiuto ci ha insegnato che è capace di fare tante iniziative sportive solidali lavora a 360 gradi e anche oggi qua in terra bergamasca riesce a portare a casa un evento sportivo di primo livello sempre poi con la stella polare della solidarietà per gli ospedali della regione lombardia e speriamo anche per i prossimi anni si possa andare avanti con iniziative sportive e solidali nell'interesse dei nostri territori città di clusone oggi vive una giornata splendida il ricordo di un uomo indimenticabile beppe barzasi ringrazio quindi lo c club 13 e cancro primo aiuto per la volontà di portare qui in val siriana i campionati italiani di fondo una cosa molto importante per tutti noi una val siriana che in questo evento vuole ripartire vuole dare un segno di grande rinascita un territorio meraviglioso da conoscere lo sport la fa da padrone ma soprattutto da bergamasco e da val siriana sono molto soddisfatto che un ora una manifestazione internazionale venga in questa provincia che è forse la provincia più martoriata della regione lombardia in questi mesi quindi vuol dire dare nuovo spirito nuova gioia nuova vitalità e anche una certezza che il futuro sarà migliore io spero proprio che si possa tornare a fare gli sport invernali la discesa e il fondo quanto prima è una manifestazione importante che riporta lo sport in valle siriana in un momento in cui tutti quanti purtroppo siamo a secco di di sci e spero che sia un buon presagio per questa per questa valle che ovviamente più di altre zone della nostra provincia sta soffrendo per le limitazioni legate al cobit cancro primo aiuto è presente oggi ma lo è in tantissime manifestazioni sportive in tante discipline ed è il suo modo molto originale ma molto efficace di raccogliere risorse per una causa importantissima che è quella dell'aiuto ai malati e alle famiglie dei malati di cancro io sono vicino all'associazione da diversi anni mia moglie ne è stata la madrina e crediamo che sia una delle associazioni più serie e più grado appunto di esprimere aiuti concreti nei confronti di persone che attraversano momenti così difficile la loro vita ed è molto interessante questa associazione tra lo sport e la beneficenza tra lo sport e l'aiuto a chi a chi è in difficoltà ci tenevo tanto per riuscire a fare una bella gara di nuovo con lui e per il nostro gruppo sportivo militare le fiamme oro di moena e dobbiamo ringraziare soltanto le fiamme oro dall'ufficio sport a moena dalle fiamme oro di roma e soprattutto i tecnici che ci seguono in pista che tutto il giorno lavorano per noi è un grande grazie a loro da parecchi anni che almeno per le donne le fiamme zalle non portavano a casa un titolo assoluto nella nella team sprint e quindi penso che si possano dire soddisfatti una vittoria che cercavamo da un po di anni ormai io e luci siamo in squadra assieme da sei anni ci alleniamo sempre assieme cercano sempre di dare il massimo e oggi questo risultato di squadra è molto motivante per il prossimo della stagione sono contenta e anche di come è andata la gara odiana ho riconfermato il titolo dell'anno scorso devo dire che è stata impegnativa perché comunque riscaldarsi di corsa senza provare la pista e poi con questa neve e passando solamente due persone per batterie dai quarti sono state belle tirate tutte sin dalla qualifica ho capito che potevo fare bene dopo la semifinale accusato un crampo a linguine non mi passava però cercato di muovermi a massaggiare il più possibile non pensarci e ho detto se arrivo attaccato fino all'ultima curva poi rettilinea spinta ne ho tanta da tanto da dare così è stato e sono molto contento